Coccolarsi significa anche prendersi una pausa da una giornata lavorativa intensa o da un momento stressante. Per staccare un po' la testa e godersi uno snack gustoso. Andiamo a stimolare le nostre papille gustative con un dolce perfetto per una merenda all'aperto o in ufficio. Dei golosissimi cioccolatini ripieni. Lamponi, del cioccolato fondente, olio di cocco, crema di nocciola o altra crema di frutta secca. Facciamo sciogliere a bagnomaria o a microonde il cioccolato fondente con due cucchiai di olio di cocco. Se non è l'olio di cocco non è un problema, utilizzo del burro. E mescoliamo di tanto in tanto. Ora andiamo a riempire i lamponi. In una sac à poche vado a versare la crema di nocciola. Utilizzo la sac à poche perché è più facile andare a mettere la crema all'interno. Diamo una mescolatina e ormai è pronta. Verso il cioccolato sciolto in un recipiente piccolino. Immergo il lampone nel cioccolato sciolto. Lo giro bene. Poi sulla carta forno. Adesso in frigo per circa mezz'ora. Mentre i cioccolatini ripieni sono in frigo andiamo a preparare un frullato banana e arachidi. Una banana, un cucchiaio di cacao amaro, un cucchiaio di burro di arachidi. Se non vi dovesse piacere, altra crema di frutta secca. E 100-150 ml di bevanda vegetale all'avena, zero zuccheri aggiunti. Mettiamo tutto nel frullatore. Cominciamo dalla banana che vado già a spezzettare in due o tre pezzetti. Il cacao amaro. Io in questo caso abbondo leggermente perché mi piace molto. E il burro d'arachidi. Aggiungiamo infine la bevanda all'avena. La quantità ovviamente dipende dalla grandezza della banana, fra i 100 e i 150 ml. E nel giro di 30 secondi il nostro frullato è pronto. I cioccolatini sono perfetti. Andiamo a controllare l'interno. Spettacolo eh! Cioccolatini ripieni e frullato. Direi lo snack perfetto. Al prossimo episodio.